Salve a tutti e benvenuti a questa prima lezione sul verbo. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Vedete bene questo fumetto? In questo fumetto ci sono delle parole scritte in azzurro. Vi consiglio a questo punto di interrompere il video e leggere con calma i fumetti, cercando di capire bene il significato di queste parole. Bene, se avete letto il fumetto avrete notato i verbi che sono le parole segnate in azzurro. Li usiamo per indicare le azioni, le cose che facciamo, come guardare, camminare, parlare, suonare, come un verbo che troviamo anche qui nel fumetto. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Il verbo è una parola molto importante, la più importante della frase. Senza il verbo non si costruisce una frase. Non esiste proprio una frase. È anche la parola italiana che più di ogni altra può cambiare, perché abbiamo visto che altre parole come i nomi cambiano a seconda che si riferiscano a uomini, a donne, a una persona, a una cosa o più persone o cose. Ma il verbo cambia ancora di più e vedremo in seguito come. Quasi tutti i verbi servono per indicare una serie di cose. Dico quasi perché nella grammatica italiana ci sono sempre delle eccezioni, cioè delle parti che non seguono la regola. Vediamo. Allora, i verbi servono a indicare un'azione fatta da qualcuno. Il vigile fischia. Cosa fa il vigile? Fischia. Un esempio simile può essere Il bambino mangia. Cosa fa il bambino? Mangia. Un altro caso può essere un'azione subita da qualcuno. Subire vuol dire ricevere su di sé l'azione di qualcun altro. Per esempio, Francesco è vestito dalla mamma. Quindi Francesco riceve l'azione di essere vestito dalla mamma. Un altro esempio può essere Anna è pettinata dal parrucchiere. Oppure può indicare un'azione che qualcuno fa su se stesso. L'esempio dice Ali si pettina. Quindi Ali compie l'azione di pettinare se stesso. Un altro esempio può essere Io mi vesto. Oppure I bambini si lavano. Oppure Un verbo può indicare un fatto che avviene senza riferirsi a qualcuno in particolare. Per esempio Cade la pioggia. Oppure Nevica. E poi abbiamo due verbi speciali che si usano in un modo un po' particolare. Questi sono i verbi Essere e Avere. Vediamoli insieme. Questi due verbi da soli hanno un loro significato proprio e servono per indicare le cose precise. Vediamo il verbo Essere. Può indicare l'esistenza o l'assenza quindi non esistenza di qualcuno o di qualcosa. Oppure dove qualcuno o qualcosa si trova. Per esempio C'è il sole oppure Non c'è il sole. Oppure L'albero è nel giardino. Dove è l'albero? Nel giardino. Il verbo Essere può anche essere usato per indicare com'è o cos'è qualcuno o qualcosa. Vediamo gli esempi. Ali è uno studente. Cos'è Ali? Uno studente. Io sono curioso. Come sono io? Curioso. Il libro è interessante. Com'è il libro? È interessante. I gatti sono animali. Cosa sono? I gatti sono animali. Il verbo Avere invece viene usato per indicare il fatto che qualcuno o qualcosa possiede qualcuno o qualcosa. Vediamo gli esempi. Ali ha una palla nuova. Cioè Ali possiede una palla nuova. Io ho tre cugini. non li possiedo come una palla nel senso che però sono miei nel senso che sono cugini miei e non di qualcun altro. Quindi io ho tre cugini. I miei libri hanno la copertina rossa. I libri possiedono la copertina rossa. avere nel senso di possesso. Ma il verbo Avere si può usare anche per indicare il fatto che si sente non con le orecchie ma si prova parliamo di sensazioni o sentimenti qualcosa. Come ad esempio io ho freddo. sento provo freddo la sensazione di freddo. Anna ha paura cioè sente paura. I bambini hanno fame sentono la sensazione di fame. Questi verbi particolari si chiamano anche ausiliari perché come vedremo più avanti vanno in aiuto ad altri verbi per formarne di altri. Il verbo essere avere come ausiliari cosa vuol dire questa cosa? La parola ausiliare vuol dire aiutante. Osserviamo gli esempi. Ieri ho giocato a carte. Qui il verbo giocare è aiutato dal verbo avere per formare un altro tempo verbale. Stamattina Marta è arrivata tardi. Qui invece il verbo arrivare è aiutato dal verbo essere. In questi casi i verbi essere e avere sono ausiliari perché non hanno il loro significato vero ma danno il loro aiuto ai verbi giocare e arrivare per formare per formare un tempo composto. Che cos'è un tempo composto? I tempi composti sono formati da due parole due verbi la prima è sempre una voce del verbo essere o avere la seconda invece è il verbo che intendo comunicare nella frase quello che indica l'azione. In questo caso il verbo composto che è stato formato è il passato prossimo e il secondo verbo giocato e arrivata è il participio passato che però vedremo in un'altra lezione invece i tempi semplici sono formati da una sola parola cioè il verbo che indica l'azione per esempio io gioco io arrivo io mangiavo io dormivo sono una sola parola vediamo però come è fatto il verbo i verbi sono formati da una radice cioè la parte iniziale della parola che in genere non cambia dico in genere perché nei verbi non regolari può capitare che cambi anche la radice quindi in genere nei verbi regolari la radice non cambia e poi c'è la desinenza cioè la parte finale che invece cambia prendiamo la frase io guido la macchina guido è la radice o è la desinenza la desinenza può avere moltissimi cambiamenti mentre la radice come dicevamo prima nei verbi regolari è sempre uguale guardiamo per esempio guid a guida mi dice che è lui o lei che guida guidano cambiando questo pezzettino viene fuori guidano loro mi fa capire che sono loro che guidano e così per guidate voi guidate guidiamo noi guidiamo la desinenza con cui i verbi sono indicati sul dizionario quindi la parte finale che troviamo nei verbi scritti sul dizionario è quella della forma all'infinito per esempio guidare dove l'azione è espressa in generale cioè non si riferisce a me a te quindi non c'è io tu non si capisce chi compie l'azione è espressa appunto in generale attraverso i cambiamenti della desinenza il verbo o meglio la voce verbale come si dice in grammatica riesce a esprimere molte informazioni riguardanti chi compie l'azione e quando viene compiuta l'azione in italiano i verbi si raggruppano in tre coniugazioni o gruppi e ogni coniugazione ha le proprie regole per individuare le coniugazioni bisogna osservare la desinenza cioè la parte finale dell'infinito come abbiamo detto un attimo fa andiamo a vedere abbiamo la prima coniugazione sono i verbi che finiscono con are come amare studiare guardare camminare quelli della seconda coniugazione finiscono in ere come temere sapere correre cadere quelli della terza coniugazione invece finiscono in ire servire sentire capire salire i verbi essere e avere invece non appartengono a queste tre coniugazioni perché hanno una coniugazione propria che deve quindi essere studiata a parte mentre i verbi di ogni gruppo i gruppi per esempio dei verbi che finiscono in are seguono le stesse regole vediamo la persona e il numero il verbo ci dà informazioni anche sui soggetti cioè su chi compie l'azione l'azione può essere compiuta da persone diverse la desinenza del verbo cioè la parte finale fa capire il soggetto cioè chi fa l'azione attraverso la persona le persone dei verbi possono essere la persona una o le persone più di una che parla o parlano come io e noi e nel noi ci sono anch'io che parlo oppure la persona o le persone che ascoltano come tu e voi oppure esso o essa se sono una cosa o un animale esso al maschile essa al femminile oppure le persone diverse da chi parla o da chi ascolta quindi persone che non sono all'interno della conversazione quindi per esempio lei se è una donna lui se è un uomo o loro se sono un gruppo di persone o più di uno comunque oppure essi o esse se sono più di una cosa o di un animale quindi io tu lui lei e potete sentire anche egli ella egli è come dire lui ella è come dire lei oppure esso essa per cose e animali ovviamente esso il maschile essa il femminile indicano soggetti singolari c'è solo una persona un animale o una cosa e questi sono io la prima persona singolare tu la seconda persona singolare lui oppure lei egli oppure ella esso oppure essa invece sono la terza persona singolare le forme egli e ella si usano un po' di meno noi voi loro invece essi esse per cose e animali indicano soggetti plurali cioè li usiamo quando è più di una persona a compiere l'azione e noi è la prima persona plurale voi la seconda persona plurale loro oppure essi esse la terza persona plurale bene in questa lezione abbiamo parlato del verbo in generale cos'è e quali sono le parti che lo compongono nella prossima lezione verranno spiegati invece i diversi tempi verbali per imparare quali sono ma anche come e quando si usano più avanti invece vedremo ogni tempo verbale uno per uno nei particolari partendo dal presente bene questa prima lezione è terminata ci vedremo la prossima volta arrivederci a tutti grazie Grazie.